Un'elegazione di Fondo Monetario Internazionale è stata una roba e ha conversato con un differente protagonista di escenario economico-financiero. A EMAF ha fatto su investigazione durante due settimane e ha un'imprezione di una situazione. A Sina ha conosciuto il pensamento di Ture, protagonista non rilevante. Forse la settimana, il ministro di Finanza, Angel Bermúdez, ha mostrato che a EMAF ha riconosciuto che la roba è un buon rumbo di recuperazione. A EMAF ha una agenza independente che ci ha segnato. Fondo Monetario Internazionale, IMF, come un istituto, ha un ruolo per fomentar la cooperazione monetaria e promover la stabilità finanziaria. A EMAF ha presentato il relato preliminario maggiore di Riba Aruba. La avenida Financiera è evidente, è una finanza pubblica sostenibile e realistica con l'eliminazione del deficit del presupuestario gradualmente a zero. è una finanza pubblica di Riba Aruba. è una finanza pubblica di Riba Aruba. La finanza pubblica di Riba Aruba è una finanza pubblica di Riba Aruba. ma non è una finanza pubblica di Riba Aruba. ma non è una finanza pubblica di Riba Aruba. è una finanza pubblica di Riba Aruba. fu in alto punto di vista da inserare le scuole e erutico non si ha scortato molto. Giovanni Möller, Notizia Venoci. MF da Purbo promuove un crescimento economico sostenibile e riducì pobresa nel mondo e agenzia da presentare l'atto non per correggere qualche desequilibrio.